Boom di guariti nei comuni del Vesuviano. Sono 80 le persone guarite da Covid-19 a Torre del Greco nella giornata di ieri. Si registrano al contempo 16 nuovi casi, al momento in isolamento domiciliare e due decessi. Avevano 68 e 64 anni. Muta quindi il bilancio dei contagiati con 294 attualmente positivi, di cui 18 gli ospedalizzati. Un solo nuovo caso positivo a Torre Annunziata su 37 tamponi effettuati. Sono invece 3 le persone guarite. Resta basso il numero di cittadini attualmente positivi che si attestano intorno ai 76. Castellammare registra 3 nuovi positivi, tra cui un bambino di 9 anni, su 66 tamponi effettuati. Le guarigioni sono invece 32. Continua a migliorare la situazione dei contagi a Portici con un numero di guariti superiore ai contagi. Nel dettaglio, la settimana che va dal 3 al 9 maggio, su 1717 tamponi effettuati, sono risultati positivi 90 cittadini di Portici, per una percentuale del 5,24%, mentre le guarigioni registrate sono 127.